Gran premio lotteria finale, ancora un urrà napoletano per The Last Urra, lo anticipiamo subito, un epilogo che ripropone il vincitore del 1978. Un urrà anche per Vivaldo Baldi, in grado di riportare il suo quinto successo nella corsa parte inopea. Per il baglio della scuderia Packerson un successo in 1'14,9 km, non è il record della classicissima Giacchè della Sturra trottò in 1'14,5 nel 1978, vittoria nettissima però davanti è Dyke Echelon, Delfo, Speed Expert, Giuste Cince, Gran Premi. Giacchè della Sturra trottò in 1'14,5 nel